Ancora una volta a Bassano si è superato il limite, ancora una volta il degrado è andato a braccetto con la mancanza di rispetto verso una città e il suo decoro, tutto legato all'ennesimo addio al celibato andato in scena sabato sera. Il promesso sposo, travestito da Gesù, ha attraversato le vie del centro e il ponte vecchio, appesantito dalla croce del matrimonio, spargendo lungo la sua via Crucis una scia di particole, di ostie chiaramente non consacrate. E qui è scattato il disappunto di bassanesi e turisti, infastiditi non solo nel vedere le strade cittadine riempirsi di briciole e sporcizia, ma soprattutto perché è sembrata una mancanza di rispetto verso un credo e appunto una fede sbeffeggiati da un gruppo di ragazzi, che magari senza volerlo hanno offeso la sensibilità di molti passanti, tra cui la signora Maria Grazia, che era presente in Angarano e che ci racconta l'accaduto. Ho trovato per terra davanti alla birreria tutte particole sparse per terra, naturalmente vedendo alle mie spalle un ragazzo vestito da poro Cristo che lasciamo perdere. Venendo più avanti ne ho raccolte nel ponte, poi con la bicicletta ho messo in bicicletta, sono venuta su per le piazze e ho portato le particole a casa. Ho chiamato Rete Veneta, ho scritto il messaggio, poi sono tornata, ma a piedi per in cerca del ragazzo però, e sono andata al ponte e ho trovato queste due gentilissime carabiniere e mi hanno addirittura aiutato a raccogliere le particole che erano per terra, sul ponte. E la memoria dei bassanesi, di fronte all'ennesimo Dio al celibato sopra le righe, torna ai tanti, troppi episodi che in passato si sono verificati, come nell'occasione di quel promesso sposo di Este, finito nei guai dopo aver gironzolato in città, dentro una cuccia per cani, o per altri episodi tamarri, qualcuno anche blasfemo, in netta contraddizione con il regolamento di polizia urbana. Scene di degrado e di eccessi come questa di sabato sera continuano dunque a lasciare dietro di sé una scia, oltre che di particole, anche di polemiche.